Ciao ragazzi! Ciao! Nuova trasferta a Milano Ormai a Netflix si sono affezionati a noi E quindi ci hanno chiamati di nuovo Ma la cosa particolare sarà che oggi Per la prima volta Alice e Daniel parteciperanno insieme Perciò vedremo cosa succederà Siamo partiti! Che stanno facendo questi due? Dai! Guardate che le challenge le dovete fare dopo Adesso dobbiamo andare a prendere il taxi Arrivati! Guardate! Piccola anticipazione Stanno sistemando tutto Lì ci sono le vostre postazioni Si vede Alissa e Daniel siete voi Ma adesso ci andiamo a rifocillare un pochino Perché so che ci hanno messo una piccola merendina Andiamo a vedere Daniel illuminaci d'immenso E facciamo questa merenda Momento parrucco Come li faremo questi capelli? E come li faremo i tuoi? Gli faremo delle lunghe trecce? Oppure un'acconciatura? No! Sarà un po' difficile Allora Vediamo la magia Ora è così E... Olè! Che bei codini! Ok dai ragazzi Siamo pronti! C'è una sfida in ballo Una sfida Un premio C'è una sfida in ballo In tutti i sensi È vero? Si stanno preparando Alissa e Daniel Da una parte Iago e Noah Dall'altra Intanto vi faccio sbirciare un po' Qui dietro le quinte Su come è fatto il set Ecco cosa avviene Dietro ciò che poi vedete online Anche in questo caso Ci sarà in palio Un trofeo per i vincitori Il bello è che Loro non sanno Cosa li aspetta Ok ragazzi Qua è tutto pronto Si inizia a girare Dai Vai Motore Ragazzi poi Vedrete il risultato Sul canale di Netflix Dopo scuola Mi raccomando Vi lascerò i link In descrizione Ma ora si parte 3 2 1 Azione Alissa e Daniel Ciao E loro sbilanti Iago e Noah Ciao Siamo pronti per la La prima sfida Che avrà a che fare Con delle mani giganti Oh eccole Siamo pronti ragazzi Ma ovviamente Non vi farò vedere Cosa succederà Perché per scoprire Esattamente Cosa avranno fatto Durante la sfida Dovrete andare a vedere Il video ufficiale Sul canale Di Netflix Dopo scuola Ok Qui si sarà giudicato Questa prima sfida Ragazzi Per scoprirlo Dovete andare Sul canale Di Netflix Dopo scuola A guardare Il video completo Ma sentiamo Un po' Come è andata Vi state divertendo? Sì Che bello Queste manone Chissà se ce le regalano Beh vi lascio Vi lascio Le vostre challenge Ciao 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 Ma ora Facciamo una pausa pranzo E guardate Non mi ero accorta Che il Chuck era rosa Che l'ukulele Però Il Chuck rosa è bellissimo Lo dobbiamo prendere Anche per i nostri video Ci vuole Un po' di relax Qui nella saletta Ci vuole Prima di riprendere Le challenge Non troppo relax Non ti addormentare Ma dove ci portano Per andare a mangiare Non è nel posto di prima Qua c'è una cosa strana Ok Andiamo di qua Area break Ci piace Ci piace L'area break Ah ma no Ma è proprio Un posto Con i tavoli Io pensavo Che c'erano i panini Dai Ma si mangia cibo vero Ragazzi Con i piatti Non sono panini Vediamo un po' Insalata di riso Pollo e patate Buon appetito ragazzi Alissa ha detto Che andava a fare Un bis di broccoli E è tornata Con un piatto Piano di patate Cos'è sta cosa Quanto mangia Questa Basta È finita La soglia Eh ho capito È finita tutta Allora qui Sta succedendo qualcosa Stanno spostando tutto Perché Perché Cosa sta arrivando Anche questa Seconda challenge Si preannuncia Decisamente Interestante Hai visto cosa è arrivato Si ma è gigante Questo trampolino Quello che avevamo Prima di rompere Era più piccolo Quello che avevamo No era piccolo Questo è grande E vabbè Ci dovete fare un ballo Vai ripassa le mosse Ok Brava 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 Ti voglio proprio vedere Speriamo che non inciampiamo Su questo Su questo E te che aspetti Ok Eccoli pronti Per la seconda sfida Uno Via E anche la seconda prova È andata Ora scopriamo Cosa Gli aspetta Per la terza Ecco qua Che stanno Preparando Il tutto Per l'ultima sfida Un pavimento Che verrà Insaponato E sul quale I ragazzi Dovranno tentare Di ballare La coreografia Senza fare Scivoloni Ce la faranno Chi lo sa E a te Come ti hanno Conciato Ma Ma mi sa Che è un po' Pericolosa Questa prova Oddio Eccola anche lei Col casco Piedi nudi Ragazzi La tribù Dei piedi Insaponati Daniel è già andato A testare Ora prendono posizione Ragazzi Siete preoccupati Per questa sfida? Sì Io sarei un po' preoccupata Guarda lì Mamma mia Questa sì che è una challenge Meno male che vi hanno Messo le protezioni ovunque Perché credo che vi serviranno Però Ragazzi Mi raccomando Dovete farla bene La coreografia Questa è l'ultima sfida Ok Tutto dipende da questa sfida Come ti senti Daniel Molto preoccupata A come preoccupata Di dire No sono super pronto Ah sono super preoccupato Dai Vabbè queste sono dietro le quinte Poi nel video ufficiale Lui dirò Sono super pronto Sono bravissimo Vero? No Ma Prima di spetasciarsi a terra Comunque ragazzi Io mi devo allontanare Fortunatamente Non sono stata invitata A partecipare a questa sfida Perciò Ciao Chi si aggiudicherà L'ambito trofeo? Chissà Chissà Se andrà A far compagnia Al nostro Like Award Oppure Se lo vinceranno I nostri Avversari Beh Lo scopriremo presto Oddio ragazzi Un po' a paura Comani andranno a scuola Ingestati Due Uno Via Ma Alissa che tenta Di far cadere Daniel Ok Erano partiti tutti i calmi Adesso si fanno la guerra Ragazzi Basta tentare di uccidervi È finita la challenge Alissa prendi la mia mano No no Lasciami la mano Non la voglio più Che schifo Vieni Vieni Ti traggo in salvo Ok Adesso come ti riporto a casa? Sei Chi volante Sei imbricatuta dentro Un enorme barattolo Di bolle di sapone Alissa Allora questa prova Com'è andata? Molto bene Molto bene Vi siete divertiti? Tantissimo Sì Comunque tipo io Tutta a scicura di me Ok adesso entro E faccio una bella figura Entro e cato No però È stato bellissimo Che all'inizio Eravate tutti Attenti a non cadere Micromosse E alla fine Cioè le spinte Le scivolate Ma la cosa più bella è che ti passano in casa tutta Ok Sì l'ho vista L'ho vista Mi sa che non ti ho filmato però Ho visto la scena Quando uno si dice che questi bambini sono da strizzare Nel vero senso della parola Ma che fai? Te lo li metti addosso? Eh non è davvero più come me Vabbè comunque vi siete divertiti Sì Secondo voi chi è che vincerà? Io Tu No la squadra Tu Daniel perde Guardate che voi non siete uno contro l'altro Non l'avete ancora capita la cosa Siete in una squadra Cioè vi rendete conto che questo è il nostro lavoro ragazzi Cioè questo è il lavoro Sbaglio o è stato divertentissimo? No io non credo proprio Perché dalle facce che facevate Non mi sembrava che vi stavate annoiando Anch'io Voi vi siete divertiti? Sì Io e ora dobbiamo rimanere qui Eh sì Comunque ragazzi questa non conta come doccia eh Anche se siete belli insaponati Vi siete già pre-insaponati Poi a casa acqua Andiamo in piano così Sì andate in piano così Ehm dove volete andare? Quando vi vedranno salire Bravi Vatti cinque Missione computer E così questa trasferta è finita Adesso ci facciamo una cenetta qui sul treno Ce ne sentiamo a casa Vi siete divertiti? Sì E allora ragazzi mi raccomando vi ricordo di andare a vedere Il video completo di questa challenge sul canale di Netflix dopo scuola Ciao 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 Grazie a tutti.